Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Negli anni 90, una coppia ha dominato la scena dello spettacolo, catturando l'immaginario collettivo, Michelle Hanzeke ed Eros Ramazzotti. La loro storia d'amore, intensa e appassionata, è diventata leggendaria, tanto che anche oggi, molti fan vivono nel ricordo nostalgico di quella relazione, alcuni ancora sperando in un riavvicinamento tra i due. Nonostante il tempo passato, il legame tra Michelle e Eros è rimasto forte, in particolare per il bene della loro figlia Aurora, che recentemente è diventata madre, facendo dei due celebri ex coniugi nonni adoranti del piccolo Cesare. Michelle ed Eros, nonostante abbiano proseguito con le loro vite separate, continuano a suscitare emozioni nei loro fani, sembra, anche in Aurora. L'anno scorso, una reunion televisiva ha scatenato nuovi sospiri tra i sostenitori della coppia. Nel programma Michelle Impossible, dedicato a Michelle Hunziker, è avvenuta una dolce e complice riunione tra lei ed Eros. Alcuni hanno parlato di un semplice affetto e nostalgia, altri hanno sperato in qualcosa di più. Recentemente, la festa di compleanno di Aurora ha riunito nuovamente Michelle ed Eros, creando momenti di grande tenerezza. Secondo quanto riportato su Diva e Donna, i due si sono scambiati sorrisi, abbracci e sguardi d'intesa, tanto che chi non conoscesse la loro storia potrebbe pensare di trovarsi di fronte a una famiglia felice. Questa apparente serenità e affetto tra loro hanno acceso le speranze dei fan, che sognano un ritorno di fiamma tra le due star. La domanda rimane sospesa nell'aria. È possibile che tra Michelle ed Eros ci sia ancora qualcosa di più di un semplice affetto? Solo il tempo potrà svelarlo. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.